Ben trovati con il TgList di Telebari. Oggi 8 agosto è il 33esimo anniversario dell'arrivo nel porto di Bari della motonave Vlora con a bordo 20.000 profughi albanesi. La città di Bari ricorderà l'evento che ha segnato la storia dell'immigrazione nel Novecento con una serie di appuntamenti. Alle ore 11.30 nella sala consigliare di Palazzo di Città il sindaco Vito Leccese consegnerà le chiavi della città di Bari a Mario Desiati, scrittore, giornalista e poeta, autore di Mare di Zucchero. Alla cerimonia interverranno il console di Albania a Bari, Artur Bardi. In largo sono persone 8-8-1991. Si terrà un momento di riflessione sui valori civili e umani dell'apertura dell'accoglienza e dell'integrazione. 102 trapianti di fegato effettuati negli ultimi 22 mesi al Policlinico di Bari e lista d'attesa quasi azzerata. Non è solo una questione di numeri ma anche di qualità dei risultati ottenuti grazie a una sopravvivenza a un anno dal trapianto del 92%. Un importante risultato che oggi rende il 100 trapianti di fegato del Policlinico di Bari un centro a medio volume. Con i 5 trapianti effettuati negli ultimi 6 giorni di luglio abbiamo 10 pazienti attualmente in lista d'attesa. Spiega il dottor Francesco Tandoi, direttore dell'unità operativa di chirurgia epatomiliare e 100 trapianti di fegato. E adesso le altre notizie del TGIS. Si è tenuto nella sala giunta del Palazzo di Città la presentazione del progetto afferente al centro sperimentale di mediazione per la giustizia riparativa, prisposto dall'assessorato al welfare e dalla cooperativa sociale Crisi Onlus. Il modello di giustizia di tipo riparativo scaturisce da un lungo processo di evoluzione culturale e legislativa che ha portato a rivedere il concetto stesso di giustizia come ricomposizione, di cui la mediazione diventa il principale strumento attuativo. Sarà l'occasione per conoscere il lavoro svolto durante il tavolo di coprogettazione che ha condotto alla formulazione del suddetto progetto e per illustrare le attività che saranno espletate dal centro sperimentale. Niente più panchina per le notti della signora Giovanna, ma un tetto, un lettino, un bagno e per di più nella sua barivecchia. È la storia a lieto fine di Giovanna Carra, 82enne, dolcissima e solare, che dopo aver trascorso oltre 40 anni della sua vita con la famiglia nel borco antico della città, in un'abitazione in affitto in una stradina a ridosso dell'arco di Sant'Onofrio, vicino alla piazzetta dei Gesuiti, si è vista sfrattare per far posto ad un B&B. Tutta la città vecchia si è mobilitata per Giovanna, costretta da un mese a dormire su una panchina. Ancora una volta, la maggioranza degli studenti italiani sceglie i licei per proseguire la propria carriera scolastica dopo la scuola secondaria di primo grado. è quanto emerge dal report diffuso dal Ministero dell'Istruzione alla vigilia dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025. Stavolta più della metà delle iscrizioni, ovvero il 55,6%, si sono incanalate verso i licei. La Puglia si adegue in linea di massima all'andamento nazionale, confermando i licei al primo posto, con il 56,2% e tra tutte le possibilità, anche in questo caso, a farla da padrona, è il liceo scientifico, con i vari indirizzi. Il caldo fa volare i consumi di gelato del 6%, con il ritorno di coni e coppette che spesso sostituiscono anche il pasto quando le famiglie spugliesi spendono 96 milioni di euro l'anno per l'acquisto di gelati. E quanto emerge da un'analisi della Col di Retti Puglia su dati ISTA e dell'osservatorio SIGEP, con una tendenza alla destagionalizzazione del gelato che viene osservato, ormai si consuma in ogni periodo dell'anno, ma l'estate si conferma il periodo in cui risulta uno degli alimenti preferiti. Il settore, secondo quanto rileva Col di Retti Puglia, è in espansione anche grazie ai gelati inventati dagli agricoltori che stanno proponendo il gelato a latte d'asina, a latte di capra, fino ad arrivare al gelato all'olio extravergine di oliva. E adesso le notizie provenienti dall'area metropolitana e dalla regione. È indagato per omicidio stradale l'uomo di 62 anni di bisceie, che era alla guida del mezzo della nettezza urbana, che ha travolto e ucciso un 77enne mentre si trovava nella villa comunale della città. Sul corpo dell'anziano, la procura di Trani ha disposto l'autopsia. Il mezzo per la raccolta dei rifiuti è stato sequestrato e saranno compiuti accertamenti e una perizia tecnica per verificare che fosse a norma e che, per esempio, fossero attivi gli avvisi sonori. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale che stanno conducendo le indagini, il 77enne era seduto su una sedia in plastica in un punto all'ombra generata da un muro del bagno della villa comunale in piazza Vittorio Emanuele, quando il camioncino, procedendo in retromarcia, lo avrebbe travolto senza dargli scampo. Giallo a Foggia è stato trovato il cadavere di un uomo in via Filippo Buonarota. Secondo le prime informazioni, pare si tratti di un senza fissa dimora. Sul posto le forze dell'ordine e gli operatori del 118. Un violento impatto tra due auto con due feriti trasportati in ospedale ha paralizzato il traffico sulla statale 275 in direzione di Santa Maria di Leuca. L'incidente è avvenuto sul rettilineo che conduce alla marina di Castrignano del Capo all'altezza dell'area di sosta. I mezzi coinvolti sono una Fiat Punto che si è ribaltata dopo lo scontro e una Volkswagen T-Cross. In una giunta straordinaria convocata con urgenza, la Regione Puglia ha firmato l'intesa sul secondo masterplan dei giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. Lo abbiamo approvato d'urgenza, ha spiegato il governatore Michele Emiliano su pressante richiesta del governo, ma il Via Libera arriva, aggiunge, su un programma di interventi redatto dal commissario con grave ritardo e non concordato in via preventiva con la Regione. Nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale renda obbligatorio il parere della Regione per l'individuazione delle opere infrastrutturali e quindi per l'organizzazione dei giochi. E con il TgList è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento. a presto. Grazie a tutti.